Buongiorno ragazzi, sono a Catania, Simone Parodi, il resto della squadra. Sì, ma anche fisicamente, ho messo un fisico, io lo ammiro perché si parla di modelle, c'è un giro di modelle dietro che è una roba impressionante. Sì, ma poi c'è anche i suoi marchi, c'è un marchio, il marchio, c'è roba di macchinoni, di modelli, serate, serate. Ma io dico, fino a visitare il giorno, ragazzi, perché andiamo a chiedere un po' come ha fatto. Eh, andiamo a chiedere un po' come ha fatto, come ha fatto. Eh, andiamo a chiedere un po' come ha fatto. Oh sì, ma scusa, scusa se ti disturbiamo un attimo. Non ci siamo distruggati, ma non va bene. No, no, perché, insomma, noi ci chiediamo un po', no, perché sei sulla testa del London. Sì, ma non oggi, ragazzi. Sì, perché sei sulla testa del London. Sì, perché sei sulla testa del London. Bell'Ende. Pronto? Ciao, scusami, ma adesso è tempo da fare, ragazzi. Scusami, se mi puoi chiamare più tardi. Vabbè, scusate, ragazzi. Bell'Ende, no? Bell'Ende, no? Sì, vabbè, non mi rompe la mano. Bell'Ende! Ho capito, ragazzi. Questo per noi è troppo, ragazzi. Andiamo via. Sì, ma mi chiama sempre, sono io, ragazzi. Oh, pollo, chapeau. Ragazzi, ho pronuncio, ragazzi. La desolazione del resto della nazionale. Tu sei il vero numero uno. Tu ci porterai alla vittoria. Grazie Parodi. Da Catania è tutto. Grazie. 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 Grazie.